Più parchi, meno cemento, è il testo degli striscioni che questa mattina campeggiano su una delle strutture del Parco delle Torri. WWF Pisa, Progetto Rebellia, Circolo Legambiente, Pisa, Lipu Pisa, Moschito, Salviamo l'Aquidotto Medicio e Unione Inquilini per un'azione particolare. Certo, è più parchi e meno cemento. Queste striscioni denunciano lo stato della città che è abbandonato ai cementificatori e noi a questo ci vogliamo opporre perché il Parco delle Torri è solo l'ennesima colata di cemento mentre quello che vogliamo noi per la città sono dei parchi. Ancora una volta si usa la parola parco come tante altre legate all'ambiente un po' a caso, un po' per nascondere altri interessi e altri obiettivi. Noi siamo qui oggi per contestare questi obiettivi, cioè quelli di costruire sempre nuove opere in cemento e acciaio nella città ma soprattutto e ancora di più siamo qui per rilanciare invece l'importanza della parola parco e dargli un significato concreto. Proprio di fronte a queste due torri c'è una grande area verde che da ormai anni è oggetto della nostra campagna non solo di legambiente ma di tutto il gruppo di associazioni e cittadini che si occupano e si spendono per cercare di realizzare un parco in quest'area e oggi vogliamo dare un inizio concreto a questa campagna. Siamo in attesa, stiamo cercando di dialogare con le istituzioni perché sia previsto anche nei piani urbanistici la realizzazione di questo parco in modo concreto però oggi vogliamo cominciare. Mentre aspettiamo che le amministrazioni decidano noi cominciamo insieme ai cittadini a prenderci cura di una grande area al centro della nostra città e realizzare un piccolo parco. Oggi apriremo un sentiero, un sentiero percorribile da chiunque in mezzo al verde, in mezzo alla natura, con delle panchine, con delle piante, con degli alberi per cominciare a restituire alla città un pezzo di verde, di parco troppo prezioso per essere abbandonato per tutti questi anni.